Quello di cui ci stiamo rendendo conto è che l'intestino in realtà contribuisce moltissimo assieme a tante altre parti del corpo, ha il modo in cui il cervello processa le informazioni. Questo perché informazioni che derivano da tutto il corpo convergono nel cervello e sono alla base di quelle aree che determinano delle risposte cosiddette emotive, cioè le decisioni che noi consideriamo di pancia, istintuali, sono in realtà la valutazione che il corpo dà di una situazione, cioè noi ci siamo evoluti in condizioni in cui il cervello doveva essere molto abile e veloce a giudicare se una situazione per esempio era pericolosa o fosse l'occasione per cacciare ad esempio. Quindi il corpo è diventato attraverso le reti estese di cellule neuronali che non sono nel cervello ma anche nel corpo in realtà un decisore per questo genere di situazioni. Le informazioni che convergono nel cervello generano le emozioni, cioè le emozioni sono, parlando in termini evolutivi, il modo in cui il cervello si autorappresenta la risposta del corpo. Poi ovviamente noi nella nostra evoluzione di un cervello complesso abbiamo imparato a utilizzare le emozioni anche per altro, anche per la nostra vita sociale, per le nostre interazioni. Con questo interagisce un secondo metodo di decisioni che è quello tipico del cervello razionale. Il cervello razionale però basa le sue decisioni anche su quello che viene detto da questo cervello emotivo. Quindi siamo sempre in presenza di un dialogo in realtà fra un sistema decisionale arcaico basato sulle emozioni e un sistema razionale. Quando decide di usare uno o l'altro è l'arte della decisione, cioè quello che le neuroscienze si dicono oggi che dobbiamo utilizzare un sistema o l'altro in modo dipendente da che tipo di situazione abbiamo davanti. Cioè visto che il cervello emotivo si è abituato a decidere analizzando l'ambiente, allora il nostro cervello emotivo, quindi le nostre sensazioni di pancia sono molto affidabili quando ci troviamo di fronte a uno scenario visto più volte, quindi a cui il nostro corpo si è potuto abituare. Se noi per esempio siamo dei giocatori di scacchi professionisti, abbiamo visto decine di migliaia di partite, il nostro istinto ci dice qual è la mossa migliore, molto meglio della mente razionale. Se siamo, come sono io, dei giocatori assolutamente mediocri, allora è meglio affidarsi alla mente razionale perché l'istinto non ha avuto tempo, quindi la parte emotiva non ha avuto tempo di addestrarsi abbastanza a lungo per essere un sistema di decisioni affidabili. Assolutamente sì. Allora è recepito l'idea generale, cioè questa idea è stato colui che per primo si è fatto portatore di questa idea in 30 anni di studi, cioè Kahneman, è stato il primo psicologo ad essere insignito del premio Nobel per l'economia. Quindi questo genere di ricerche hanno, nel 2012, ha avuto un impatto fortissimo. Quello che adesso noi come biologi, neurofisiologi stiamo cercando di fare è capire quale sia il meccanismo. Quello che facciamo noi al San Raffaele è tentare di studiare questo transito di informazioni tra intestino e cervello e capire, riuscire a leggere effettivamente come il cervello risponde a tutti questi input. E quindi quello che stiamo analizzando è come, variando la dieta o variando il contenuto di batteri che sono all'interno del cervello, che sono un altro grandissimo giocatore in questa partita complessa di scambio di informazione, possiamo essere in grado di modificare per il meglio l'attività cerebrale. Quindi, per esempio, ridurre lo stress in condizioni di pericolo o in condizioni di forte pressione emotiva. O, per esempio, se attraverso questo possiamo in qualche modo modificare quella parte di attività del cervello che è controllo di tutto l'organismo. Quindi controllo del sistema immunitario, controllo del metabolismo e quindi controllo di malattie autoimmuni, controllo di obesità, diabete, eccetera.